Buongiorno, non mi sarei mai aspettato che venivo in Sicilia a sentire freddo la pioggia ha lasciato spazio al vento che nel frattempo ha cambiato direzione tirando dritto frontalmente e le previsioni dicono che nei prossimi giorni aumenterà di intensità in Italia segui questa strada per 98 km dovrei essere a passo dalla Scala dei Turchi questa è la Scala dei Turchi probabilmente la sto guardando da un'altra prospettiva ma sono andato dritto prima non mi va di rifare la salita comunque bellissimo buongiorno 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 Questo è il paese di Siculiano. Francesco, piacere a Giuseppe, è difficile trovare quello più... Il momento contrario è salita. È dura, è dura! Salita contro vento! Non c'è decisamente il giorno. Non c'è nessuno di quelli fatti fino ad ora. Sono 30 km da questa mattina alle 7, sono le 10 e mezza. Altrimenti contro vento! Non c'è nessuno di più. 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 Questo vento oggi mi ha ucciso. Se sarà così anche domani non saprò proprio cosa fare. Oggi non riesco a prendere il ritmo. Zero! Zero! È andata bene anche ieri sotto la pioggia. Non ce la faccio più. È da questa mattina. 60 km di controvento. Non mi ha dato tregua neanche un secondo. Guardate quanto è distante il mare. Non sempre si riesce a seguire la costa, il lungomare, anzi. Le immagini non rendono un'idea del vento che sta tirando. Il mare! Ho trovato questo posto riparato. Ho messo delle pietre per non far volare la tenda. E qui c'è la mia bicicletta. Tollessi Titulipin Tessere Sono Giuseppe hot highest Grazie.